Il ministro degli esseri ucraino Dimitro Kuleba fu ospitato in Irpinia negli anni dopo il disastro di Cernobil avvenuto nel 1986. Kuleba, allora, era solo un ragazzo, fu accolto da una famiglia di Atripalda con la quale poi è rimasto in rapporti per tutta la vita fino ad oggi. Ne è nato un legame profondo con l'Italia e la Campania in particolare, rapporto che Kuleba ha sottolineato più volte nel corso dei suoi interventi alla stampa italiana in questi anni, anche nella sua ultima intervista rilasciata al Tg1. La famiglia che mi ha ospitato nel 1994 adesso fa parte della mia famiglia e talvolta nei momenti più difficili della guerra. Ricordo quella serata da Atripalda in cui guardavamo il campionato del mondo e il fantastico Roberto Baggio. Ricordo quando siamo andati in un ristorante a mangiare una pizza margherita, molto semplice ma molto buona. Naturalmente questa è la vita che vorrei vivere, ma prima dobbiamo vincere la guerra e dopo averla vinta, la prima visita che farò privatamente, non in qualità di ministro, sarà in Italia, per ricordare tutti questi momenti della mia infanzia nel vostro bel paese.